Salve a tutti ragazzi, qui AmericaShadow con un altro episodio di Minecraft Avevo messo a fare delle pannocchie, ok Guardate cosa ho trovato, diamanti Li ho trovati Diciamo mentre scavavo, mi sono fatto una miniera Ok, qui mi ha dato questa Farei il piccone per andare Nel nether, nel nether Andiamo nel nether Ok, questo possiamo Ok Ok, scendiamo giù Ho creato diciamo una sorta di miniera Ecco qui Ci vorrà un po' di tempo per scendere Ah, intanto ho trovato della marble Quando, mentre scavavo Si, lo so che ci sono dei materiali lì Ma per il momento mi interessa solo questo L'ossidiana Per fare il portale per andare al nether Per fare poi altre cose Allora Mettiamo l'acqua Dovrebbe esserci dell'altra Perché non l'ho presa, cavolo Prendi Ah Dovrebbe esserci Si, infatti Della lava sotto Secchio Ossidiana Cavolo Vediamo come facciamo Eh, un'altra ossidiana Si, vai Continuiamo Con l'ossidiana Intanto io non posso prendere l'ossidiana Però Facciamo una cosa Mettiamo il secchio qui Ok, mi è arrivata Bene ragazzi Come avete visto Ho preso l'ossidiana Ho fatto il piccone di diamante In modo da farvi vedere che non cito Quindi Adesso prendo un po' di ossidiana E ci vediamo tra poco Bene ragazzi Riaccomi tornato Ho preso dieci pezzi di ossidiana Giusti quanti ce ne servono Per creare il portale per il nether Adesso saliamo su E facciamo Facciamo il portale Scusate Intanto siamo già a due minuti Però Ho registrato questi primi due minuti Per farvi vedere che Ho fatto il piccone di diamante Senza cittare Ho preso l'ossidiana Senza cittare Eccetera Per farvi vedere Che io non citto In pratica Perché A me non piace Giocare ad un gioco Con i cheat Insomma Con i trucchi Perché non c'è sfizio Perché io potrei Benissimamente Prendere con too many items Too many items Scusatemi Tutti gli oggetti Che mi servono E o farvi vedere Tutti i macchinari Ma sarebbe Bruttissimo Quindi Il portale Adesso il portale Dove lo facciamo Lo possiamo fare Benissimamente qui Ammazziamo un attimo Quello scheletro Che romperà di sicuro Vai Le ossa Le ho prese Ok Ho una freccia Dietro la testa Yeeeer Ok Quindi adesso Terra Facciamo Uno Due E facciamo Uno Due Un Due Tre Terra Agia Un Due Tre Poi Un E due Ah Adesso dobbiamo fare L'accendino Però Quindi L'accendino Si fa con La flint La flint Che non Noi dovremmo Avere E che come al solito Non abbiamo Ma non fa niente Ce la creiamo noi Si come al solito Non ci da la flint Ecco la flint Che ci serve Erano cinque pezzi O erano quattro Comunque Andiamo di qua Se non erro Dovrebbe Crearsi così Con la flint Scusate Non so cosa Stia passando A casa mia Bene Vediamo Ah scusate Quindi E' cheat Perché Come vi ho detto Nel mondo creativo Stavo Creando dei I macchinari Non lasciate perdere L'accendino L'accendino Vediamo La flint Eccola Con il flint and steel Ah Ok Tutto all'incontrario Così In effetti Si è così Ok Corriamo Corriamo In effetti Lo potevo fare Anche sotto Non fa niente Perché Infatti Dovrei fare Delle scale Scusate Se sto perdendo Tempo Delle scale In cobblestone Lo facciamo Veloce Veloce L'accendino Ce la portiamo Sempre dietro Quando andiamo Nel nether Perché O qualche Stupido Gast O comunque sia Qualsiasi Mostro Potrebbe chiudere Il portale E farci rimanere Bloccati per sempre Qui dentro Quindi Ahia Aspettiamo che carichi Sto aspettando Poi ragazzi Più in là Vi farò vedere Un'altra mod Bellissima Speriamo Non sia Buggato Ah Mettiamo Subito Il punto Portale Ok Portale Ecco qui Ah Questi qui Non li possiamo Prendere ragazzi Altrimenti I pigmen Zombie Ci attaccano Guardate Quanta grave Guardate Ok Quindi Siamo nel nether Ah Giusto una cosa So che l'acqua Non funziona Qui nel nether Si infatti Ok Quindi ragazzi Abbiamo visto Il nether Che è una figata Assurda Vorrei però Mi servirebbero Dei Dei nether Brick Facciamolo caricare Un po' Perché non vorrei Morire come un idiota E perdere Tutta la mia roba No Dove cavolo Eccolo Vieni Vieni Sei al coraggio Stupido Gasto Di merda Vieni qui Eh Bam In testa No Sto prendendo fuoco Ok ragazzi Andiamocene da qui No Ha spento il portale Vedete perché si deve sempre portare dietro L'accendino Subito nell'acqua ragazzi Appena arriviamo Subito 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 Corri Ehi No 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 E ti pareva Meno male siamo morti qui e non nel nether Altrimenti era impossibile recuperare la nostra roba Non è caduto nulla giù Ah il secchio è questo Qui niente Ok Va bene abbiamo recuperato Guardate l'ermetto ragazzi Si sta quasi distruggendo anche le scarpe Tutto Ok Riordino l'inventario E vi dico che io Per questo episodio è tutto Se il video vi è piaciuto lasciate un mi piace Un commento Mettete mi piace alla pagina di facebook Iscrivetevi al canale Alla prossima Ciao Ciao